Va bene, per tutti sono delle sensazioni nuove assolutamente dopo sei mesi praticamente senza giocare delle partite ci troviamo tutti quanti sia noi che le altre squadre nelle posizioni dove ci stiamo cercando è ovvio, avendo fatto ieri due allenamenti e il giorno prima ancora siamo in fase di preparazione perciò non mi posso aspettare tanti dettagli, tante anche perfezioni, essendo arrivati anche 40 minuti prima dell'inizio della partita ci ha pesato perché non ci siamo svegliati per entrare con un giusto atteggiamento fisico dentro la partita, signora squadra con signor atteggiamento ci ha messo in difficoltà, un po' poi abbiamo messo il game face come a me piace dire, difensivamente abbiamo fatto alcuni nostri allunghi, abbiamo cercato di dividere i minuti, i minuti che secondo me dovrebbe essere anche per le prossime partite uno dei nostri obiettivi principali è poco a poco alzare la nostra intesa sul campo, bisogna partire con poco, partire di nuovo cercando la unità, cercando anche l'umiltà e quello solo ci aiuta andando avanti con il tempo, quindi adesso ci aspetta un'altra partita, domani un giorno di recupero, poi ancora degli allenamenti per cercare di andare avanti con la nostra forma. dei giocatori praticamente, io adesso è troppo presto a parlare, ovviamente abbiamo dei nuovi che si cerca di mettere dentro, prima possibile abbiamo aggiunto qualche corpo che può rispondere su alcune nostre richieste e quello cercheremo sicuramente di fare migliorando sempre le intese, ovviamente abbiamo dei giocatori che sono indietro con la forpa, soprattutto quelli che hanno fatto il quarantena e hanno sofferto abbastanza nella preparazione e si vede sul campo americani senza altro, poi anche Wimps e Markovic che erano ultimi ad aggregarsi alla squadra, ultimi 3-4 giorni, quindi ce n'è da lavorare, ce n'è da pedalare, ok? Vi saluto. Grazie, arrivederci.